Buongiorno a tutti, sono Tamara Posati, una ricercatrice dell'Istituto per la Sintesi Organica e Fotoreattività del CNR di Bologna e sono laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutica. Quando era ancora una studentessa non avevo assolutamente idea di quello che avrei fatto dopo la laurea. Sicuramente un momento importante di svolta e decisivo è stato quello della tesi, durante la quale mi sono avvicinata pian piano al mondo della ricerca e ho capito meglio quelle che erano le mie attitudini. Infatti, subito dopo la laurea, ho svolto il dottorato di ricerca in Scienze Chimiche ed attualmente mi occupo di estrazione, purificazione e processing di biopolimeri naturali, come ad esempio la fibroina estratta dalla seta, per applicazioni che vanno dal biomedicale all'elettronica organica. Sicuramente la formazione conseguita all'università è stata ed è fondamentale per questo tipo di lavoro, quindi per il lavoro della ricerca. Quindi, se ancora non avete idea, non avete le idee ben chiare su quello che farete dopo la laurea, vi consiglio di vivere pienamente e al massimo il periodo della tesi perché durante questo periodo potrete magari capire meglio quelle che sono le vostre attitudini. Vi mando un enorme in bocca al lupo per il futuro. Ciao a tutti!